Io spero di fare e di riuscire a fare sempre musica e quindi dischi che non serve ascoltarli ogni giorno. Spero diciamo di riuscire a fare della musica che possa servire per quel giorno che ne hai bisogno, perché poi in realtà la musica oggi è tante cose, però è una società anche che vive di dispersione, vive di estrema velocità. Io non credo di esprimere questo tipo di vocazione quantomeno, di intenzione con le cose che faccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.